Perwork è un approccio innovativo che applica l'intelligenza emotiva nei luoghi di lavoro per promuovere benessere ed efficacia. Perwork nasce dall'unione tra ricerca scientifica ed esperienza sul campo di organizzazioni altamente performanti come per esempio del mondo dell'aviazione. Spesso l'intelligenza emotiva viene definita una soft skill, ma pensiamo per esempio all'importanza della gestione del panico in emergenza o agli effetti dello stress lavoro correlato sulla salute. Perché se avessimo avuto bisogno solamente di qualcuno che scriveva in bella copia una serie di cose per dire abbiamo fatto il documentino e lo mettiamo lì nel cassetto, ci siamo tolti anche questo peso, allora forse bastava un consulente organizzativo. Noi abbiamo bisogno di un approccio scientifico, di qualcuno che ci dica in maniera chiara cosa è meglio fare. La ricerca ha dimostrato che sviluppare l'intelligenza emotiva migliora la salute psicofisica, il clima al lavoro, la motivazione, la fiducia e anche la qualità delle relazioni, le abilità di leadership e la performance. Riduce inoltre le conseguenze dello stress, del burnout e la possibilità di sviluppare disturbi d'ansia, depressione e anche conflitti. Noi, il nostro team che promuove questo bellissimo concetto, siamo liberi di lavorare bene insieme, di sentirsi felici insieme e così è nata questa idea di happy management. Avendo un ambiente positivo al lavoro, non solo collaboriamo meglio, stiamo meglio al lavoro, ma soprattutto porta anche risultati, quindi risultati più importanti e un profit più alto. Quindi non solo ha senso di stare meglio, ma anche per i risultati, quindi è veramente un win-win. Attraverso la valutazione dello stress lavoro correlato e le indagini di clima, riusciamo ad ottenere un dato quantitativo che ci permette di cogliere i punti di forza e le aree di miglioramento delle organizzazioni e pianificare le azioni di intervento in maniera più strategica, come per esempio la formazione, il coaching. Grazie a tutti. Come ti senti ogni giorno al lavoro? Come ti vorresti sentire? Queste sono domande molto importanti affinché ognuno possa mettere a fuoco il proprio obiettivo di benessere sia a livello individuale che organizzativo e soprattutto le azioni specifiche per colmare il gap e questo in definitiva è l'obiettivo di Perwork. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.